Ok ragazzi, nuovo video, benvenuti in una nuova puntata di un Mythbusters e oggi parleremo dello stacco e dello squat che allargano la vita. L'idea è quella che nel momento in cui facciamo questi esercizi a grande sinergia muscolare in cui abbiamo bisogno di una forte, da una parte pressione diaframmatica e dall'altra una forte stabilizzazione del core andremo a sollecitare tutta la muscolatura della parete addominale quindi anche il trasverso dell'addome e conseguentemente andremo a inspessire quelli che sono i fianchi e quindi allargare tra virgolette la vita. Quanto c'è di vero? Beh in realtà non tanto nel senso che sicuramente ci sarà una stimolazione di questi muscoli però realmente l'intervento, l'impatto che ha da un punto di vista ipertrofico e visivo questo allargamento della vita è veramente veramente mimo. Si tratta di quei miti che se da un punto di vista teorico hanno perfettamente senso quando andiamo a vedere poi l'impatto pratico, l'impatto proprio quantitativo allora capiamo che non ne vale la pena. In altre parole sicuramente il beneficio che possiamo avere nell'inserire uno stacco, uno squat supera di gran lunga il malus di un minimo allargamento e spessimento della vita che comunque possiamo andare ad annullare da un punto di vista di effetto di V-shape semplicemente lavorando un po' di più le spalle e il gran dorsale se questo è il nostro problema. Però questo non vuol dire e non voglio dire che lo stacco e lo squat devono essere assolutamente inseriti non vi preoccupate di nient'altro. No, semplicemente dovete andare a valutare se inserire questi schemi motori perché sono proficui per quello che è il vostro scopo per quella che è la vostra biomeccanica quindi avete una risposta ipertrofica buona da questi schemi in questo caso inseriteli assolutamente perché peraltro vi ricordo che soprattutto con lo squat avere le gambe più grandi crea un effetto illusivo per cui i fianchi sono molto più piccoli quindi quello che potete guadagnare tanto in termini di V-shape lo guadagnate anche spessendo e ingrossando le gambe quindi se lo squat è un esercizio che vi permette di avere delle gambe grandi in cui avete un ottimo transfer ipertrofico sulle gambe allora il gioco vale assolutamente la candela. Sullo stacco io personalmente non lo vedo come un esercizio molto utile nel caso del bodybuilding se non in determinati casi però credo che la squat da pagare da un punto di vista neurale è troppa rispetto al beneficio da un punto di vista ipertrofico che possiamo ottenere con altri tipi di lavoro fermo restando che uno stacco a gambe semitese per esempio per i femorali è veramente un grandissimo esercizio stesso cosa per i glutei e anche in questo caso il discorso di andare ad inspessire e creare ipertrofia sui femorali e sui glutei va a portarci un effetto ottico di riduzione della vita che supera di gran lunga quel minimo impatto che ha la stimolazione del core quindi da questo punto di vista il succo del discorso è che se stacco e squat secondo i principi di scelta degli esercizi che abbiamo più volte visto sono degli esercizi che si prestano bene da un punto di vista di stimolazione ipertrofica allora inseriteli tranquillamente senza paura di andare a rovinare il core perché veramente l'impatto che può avere da un punto di vista ipertrofico è impercettibile perché ricordiamo che non andiamo a stimolare direttamente il core ma è soltanto un intervento di stabilizzazione fisiologico del distretto anche per questo video è tutto qua sotto con tutti i commenti e detto questo ci vediamo al prossimo episodio di questo Meat Busters